Musica Edizione speciale di Consiglio News, bentrovati, un'edizione dedicata al Salone del Libro di Torino. Ricco il programma di eventi organizzati dal Consiglio regionale nell'Arena Piemonte e in Sala Argento. 11, gli appuntamenti che hanno spaziato dalla riscoperta della cultura piemontese ai nuovi stili di vita introdotti dalla pandemia, dallo sport olimpico e paralimpico con i campioni e le campionesse piemontesi all'astronomia e alle nuove frontiere delle conquiste aerospaziali. Un'edizione, quella che si è appena chiusa, che ha segnato il ritorno alla normalità. Ha sottolineato il Presidente dell'Assemblea Legislativa Stefano Allasia con un successo di pubblico che è andato ben oltre le aspettative. E allora riviviamo insieme questa cinque giorni. Radici di un'identità, musiche, parole e storie che hanno conquistato il mondo. L'evento di apertura, organizzato dal Consiglio regionale al Salone del Libro, ha reso omaggio alla cultura piemontese. Un tema che già da diverso tempo il Consiglio regionale, non solo in questa legislatura, sta toccando. Ricordo sempre che ci sono 4 milioni di piemontesi, culturalmente piemontesi, che sono quelli, i nipoti, i figli di limitrati del fine 1800, inizio del 1900, che hanno piacere di riscoprire e rivivere l'identità piemontese. Abbiamo voluto proprio dopo questo anno di pandemia dare un forte segnale di quello che è e che è stato e che dovrà essere la cultura sul nostro territorio. Quindi, che dire, facciamo un plauso a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questa bella impresa e di questo bel evento. Un'opportunità per ripercorrere e celebrare i 50 anni appena trascorsi dall'istituzione della Regione Piemonte attraverso la riscoperta di eventi, usanze, aneddoti, curiosità e brani della tradizione eseguiti dal gruppo musicale dei Trelilu. Piemonte è una lingua naturalmente minoritaria, indubbiamente che ha una dignità linguistica importante. Vediamo anche una grande attenzione a livello didattico, anche a livello accademico e una volontà di recuperare la lingua e tutto quello che si porta dietro come contenitore culturale. L'invito è ai piemontesi a parlare la loro varietà linguistica ai figli perché solo così si può garantire la trasmissione intergenerazionale che è l'unico sistema per consentire che una lingua sopravviva. La pandemia ha rafforzato l'esigenza di potenziare i servizi di telemedicina mettendo in luce i numerosi benefici che la tecnologia e il digitale possono offrire, anche superata l'emergenza. Il tema è stato al centro dell'incontro organizzato dal Consiglio regionale attraverso gli Stati Generali per la Prevenzione e il Benessere per raccontare i servizi in uso, per migliorare la continuità assistenziale e garantire un filo diretto fra medico e paziente. La telemedicina avrà sicuramente un grande futuro e sarà uno degli elementi sostanziali che permetterà la fusione vera tra la medicina del territorio e gli ospedali. Garantisce in un territorio come il nostro, pieno di comuni, anche montani, comuni lontani dalle grandi città, la possibilità a tutti di poter accedere alle prestazioni. Sviluppare questo significa dare una sanità più equa, migliorare l'accessibilità. Utilizzare anche questo strumento non necessariamente e solo quando si è confinati e non ci si può avvicinare al proprio medico di famiglia. È stato necessario però, noi almeno sul lato francese ci siamo concentrati anche su una buona comunicazione, favorendo questa cosa non perché il paziente subisca una visita a distanza, ma perché il paziente possa sceglierlo. Dal contributo in prima linea alla missione su Marte al progetto Città dello Spazio, il Piemonte eccelle nelle spedizioni e nei progetti più avvincenti alla conquista del cosmo. Esperienze raccontate in un incontro che ha visto coinvolti aeronautica militare, mondo accademico e importanti aziende del territorio. Abbiamo iniziato a costruire la prima stazione commerciale a complemento di quella esistente, guardiamo sopra di noi perché con il nostro veicolo da rientro lo Space Rider volerà nelle orbite basse, ma guardiamo anche molto oltre per andare sulla Luna. Stiamo costruendo a Torino la stazione cis lunare che permetterà di essere la base d'appoggio, il campo base per andare sulla Luna. Sicuramente la Luna è un primo traguardo perché se noi vogliamo poi espanderci e andare verso altri pianeti, la Luna è il punto dove poter basare tutti i nostri studi iniziali per costruire le apparecchiature che ci si creano poi su Marte. Fra una trentina di anni ci arriveremo, quindi io spero che anche i nostri ragazzi, che spero che investano in questo studio, spero che si dedichino a queste materie, perché sono oltre che avvincenti, sono il futuro. Un omaggio in Arena Piemonte agli atleti della nostra regione che hanno partecipato alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020 e alle sportive degli europei di pallavolo femminile, un evento organizzato nell'ambito degli stati generali per la prevenzione e il benessere. Questi atleti che ci hanno fatto sognare, emozionare, perché abbiamo vissuto un'estate sportiva come mai e quindi siamo orgogliosi di essere italiani, in questo momento siamo soprattutto orgogliosi di essere piemontesi perché abbiamo i nostri atleti piemontesi medagliati presenti, quindi oggi il cuore batte forte. Una grande emozione essere di nuovo qui e riprenderci un po' di normalità, perché quello che una volta sembrava così normale, ordinario, vedere così tante persone all'ingotto, oggi per noi è speciale. È una bellissima cerimonia perché ha celebrato i grandi successi e le grandi emozioni che ci hanno regalato questi bravissimi atleti e atlete che sono dei campioni, sono dei campioni di sport, ma sono dei campioni di vita, sono dei campioni di vita che ci hanno insegnato come l'impegno quotidiano, l'impegno che va anche al di là delle difficoltà che abbiamo subito da febbraio del 2020, possono essere superate. È stata un'estate di grandissimo sport per l'Italia e quindi anche di grandi medaglie paralimpiche per il Piemonte. Noi abbiamo vinto oltre otto medaglie con 11 atleti, la maggior parte di questi atleti erano esordienti ai giochi. Sono stati giorni meravigliosi, indimenticabili, che porterò nel mio cuore per tutta la vita e sicuramente non dimenticherò mai. Come nascono e muoiono pianeti, stelle e galassie. Un incontro per famiglie, rivolto soprattutto a bambini e ragazzi, che attraverso la guida degli esperti e divulgatori di Infinito Planetario di Torino, Museo dell'Astronomia e dello Spazio, svela gli affascinanti misteri del cosmo. Quando si parla di stelle, quando si parla di spazio, le immagini parlano da sole. Però c'è anche la questione di coinvolgimento. Il nostro tentativo è proprio fare in modo che, quando si parla di qualcosa, si venga dato spazio anche molto ai dubbi, alle curiosità di chi è con noi, di chi è seduto, e che tipicamente si sente un po' in soggezione, perché c'è un palco da una parte, è chi parla, e c'è invece chi ascolta. Un bambino non ha paura di fare brutta figura, un bambino ha ancora il gusto di mostrare che ci sta capendo qualcosa, che è una cosa che noi adulti certe volte perdiamo un po' per l'imbarazzo, un po' per i costrutti della società. Però un bambino ha piacere di condividere ciò che sta imparando, di raccontartelo ed è disponibile a discutere. E questo è meraviglioso. Fin da piccoli puoi instaurare un dialogo con loro per fargli vedere che, se anche ci sono delle cose complesse, poco alla volta, destrutturandole, facendole un passettino, sono alla portata di tutti. Il futuro digitale della fase post-pandemica ha luci ed ombre. Le tecnologie, durante il lockdown, se da una parte avvicinano i cittadini alle istituzioni, dall'altra rischiano di stravolgere strutture pubbliche e processi democratici consolidati che eravamo abituati a conoscere. Si tratta di capire se e in che misura l'uso degli strumenti tecnologici e telematici, soprattutto come strumenti di partecipazione alla vita pubblica, politica del Paese, trasformi la stessa idea di democrazia con la quale siamo stati abituati a vivere, diciamo, a partire dalla seconda metà del Novecento. Da una parte il digitale semplifica le nostre vite, ma i processi pubblici, le decisioni, la democrazia restano processi strutturati, necessariamente complessi. È bene che siano così. E si conclude qui il nostro viaggio attraverso i tanti eventi e gli incontri organizzati dal Consiglio regionale del Piemonte in occasione del Salone Internazionale del Libro. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.